Presentate le nuove maglie della squadra di calcio del Comune di Arezzo che sortirà in campo sabato 5 novembre nel torneo di beneficenza Conto su di te organizzato da Alessandro Beatrice. Della squadra guidata dal consigliere egiziano Andreani fanno parte consiglieri comunali e dipendenti dell'ente. Scenda in campo anche l'assessore allo sport Federico Scapecchi. Io ringrazio Egiziano Andreani e il consigliere comunale che è un po' il il presidente e il mister della squadra del consiglio comunale che ha voluto rinnovare insieme alla consigliere di Areacugi le maglie della società sportiva ringrazio lo sponsor AR Group che ha permesso la realizzazione delle maglie adesso la squadra del consiglio comunale sarà impegnata anche sabato in un primo torneo di beneficenza organizzato da Alessandro Beatrice nella sua associazione sportiva l'Indiano e comunque sia la squadra del consiglio è sempre pronta a scendere in campo per la solidarietà quando la città chiama. Adesso a questo punto bisogna scendere in campo e sudare? Certamente e questo è l'impegno che va portato avanti nei confronti della città e questo dimostra che naturalmente i consigliere comunali non si impegnano solo all'interno della strada del consiglio comunale ma anche al di fuori per il bene della città e quindi per aiutare anche le associazioni, le società che hanno difficoltà in modo da dare sia in beneficenza e sia in altre iniziative per far conoscere un pochino i problemi che noi abbiamo.